E gridate, 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 sai a me che me ne importa E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta Tocchiamo il saluto ai compagni di EFAM Vogliamo portare la nostra solidarietà a chi, come noi, è sotto il tallone della Troica e schiavo di un'Europa che sta calpestando i popoli La Grecia è più avanti di noi su questa strada Sta soffrendo più dell'Italia tutte le imposizioni, tutte le angherie del capitale europeo che si sta imponendo al di sopra dell'economia e sta distruggendo le persone, le popolazioni, la gente che dovrebbe essere l'Europa vera L'associazione Alza al Pugno è particolarmente impegnata su questo fronte con il progetto Eurotruffa Abbiamo appena finito lo svolgimento di un grosso forum economia in Italia con nomi anche internazionali per denunciare questa situazione Siamo vicini al popolo greco Per questo motivo parteciperemo alla conferenza internazionale promossa da EFAM sul debito, sul lavoro per capire che questa Europa può esistere solo se è l'Europa dei popoli non come Europa dei capitali non è tutto bene non è tutto bene non è tutto bene il capo in piedi col sozap tempo è tutto bene